Per chi si ricorda di quando era piccolo che andava allo zoo, le scimmie stavano tutte insieme, tutte in branco, difficile che qualcuno si staccasse. Allora abbiamo pensato per la mostra di Simone Fugazzotto allo spazio MAC di Gianni Maimeri di mettere tutte le scimmie insieme di modo che le persone potessero guardare solo verso questa parete, di fronte il maschio alfa, la scimmia dominante, è lui che controlla la situazione, bella mostra, molto divertente. Siamo un po' noi in fondo queste scimmie. Simone Fugazzotto, io dipingo solo scimmie come metafora dell'essere umano. A me piacete voi, siete la mia fonte di ispirazione. Qua c'è una parete dedicata a tutte le sfaccettature dell'essere umano, quindi venite a vederlo, non fate i pigri e venite qua al marco. A me piacete voi, siete la mia fonte di ispirazione.